e inizia così anzi ricomincia così oceania 2 sì assolutamente il esatto il secondo capitolo della saga di baiana per noi italiani moana per il resto del mondo devo dire che allora prendo subito spunto da una affermazione del del regista durante la conferenza stampa dopo il film che hai registrato ed è già disponibile sul nostro canale di youtube esatto e il regista a domanda questa doveva essere una serie ma poi è stato invece dato il l'assenso per farlo diventare un film lui voleva insomma pareri su questo lui ha risposto questo è un film che va visto al cinema e io sono d'accordissimo perché è un film che vive di della realizzazione meravigliosa che ne fa la la disney proprio dal punto di vista pratico del del lavoro insomma di creazione no di questi personaggi dei dei luoghi siamo comunque sempre ovviamente sulle isole di Samoa le varie isole della polinesia e quello che succede è che vaiana sta avendo una sorta di upgrade cioè ormai è diventata diciamo la viaggiatrice del suo po no è cresciuta sicuramente di età ma intendo proprio un upgrade di ruolo perché diventa la viaggiatrice del suo popolo non so se ricordate nella prima nel primo capitolo tutto si giocava proprio nella differenza tra l'essere stanziali e anche spaventati dal superare dei confini che portavano verso lo sconosciuto e che erano stati in qualche modo bloccati da un discorso legato alle divinità che poi insomma portava in mezzo maui non si poteva oltrepassare questo famoso riff nel frattempo lei nel primo l'oltrepassa ampiamente risolve i problemi del suo del suo popolo però cosa succede succede che c'è un passo in più da fare lei scopre si rende conto che bisogna cercare altri popoli perché cosa succede che loro stanno lì da soli su quest'isola e per loro il mondo è quello non c'è altro non ci sono altri popoli non ci sono altre persone e lei invece è convinta che ci siano e quindi cerca di capire come diciamo trovare queste altre persone da lì parte tutta la linea narrativa c'è di nuovo di mezzo maui ci sono di nuovo di mezzo le divinità che si mettono appunto si frammettono tra gli uomini e i loro desideri i loro obiettivi e poi c'è di mezzo ovviamente la natura meravigliosa sconfinata importante anche pericolosa ma contemporaneamente da proteggere che fa da sfondo alle avventure di vaiana ed è una cosa che dal punto di vista proprio visivo è sconvolgente e meraviglioso è ancora più bello del primo da quel punto di vista anche come storia devo dire è divertente interessante le canzoni sono molto belle ho trovato veramente tutto tutto molto molto godibile una durata da film diciamo di un tempo 100 minuti sì un'ora sì esatto poco più di un'ora e mezza esatto quindi magari non proprio come cenerentola però ecco una durata accettabile per un cartone animato cenerentola aveva 10 minuti di meno sì forse sì no ma ce ne sono anche molto corti per esempio Dumbo è molto corto per dire no però ci sono stati anche dei cartoni veramente che uscivano dalla dalla logica no questo ha una durata secondo me perfetta e ci sono altri personaggi lei non fa questo viaggio da sola stavolta perché la prima volta era lei che si lanciava in quanto unica che aveva il coraggio questa volta si porta presso delle persone del suo popolo ognuna con la sua capacità con la sua competenza che cercano di offrire appunto queste capacità a baiana e poi ovviamente ritroviamo maui che anche lui è un po cambiato anche lui diciamo che ha preso coscienza rispetto al primo della sua fallibilità tra virgolette cioè è un semidio ma comunque ha bisogno di essere aiutato e poi il suo legame con baiana è sempre più più stretto e non vi posso dire altro perché poi la storia è molto affascinante anche molto coinvolgente io sono ci sono stati dei momenti che ho la mano stretta sulla poltrona perché stavo seguendo ero molto presa dalla storia tra l'altro tornando al discorso che facevi appunto portando la citazione del regista che si david g derrick jr che tra l'altro ha affrontato la conferenza stampa in italiano sì ma infatti veramente una bravura infinita ma anche un coraggio perché di solito lui rispondeva in italiano e poi se c'era qualche problema si faceva correggere dalla veramente non non automatico per niente non non scontato però appunto io non avendolo visto il il film se tu mi dici questa questo grandissimo impatto impatto impianto visivo bisogna posso anche semplicemente recuperando e anche vedendo il non il trailer anche soltanto la la locandina si tratta di ambiente marino quindi acqua da animare è un inferno ma i capelli ma una cosa poi questa volta c'è una una sorellina ora io non ricordo se in oceania 1 la mamma era incinta ok è nata questa sorellina questa sorellina che si chiama simea come tra l'altro la figlia del regista se non sbaglio se l'ha detto sempre e anche lei ha i capelli non lunghissimi come come vaiana però insomma un po legati con la coda con i ciuffi davanti e quindi anche lì c'è un grande impegno la grande fatica di di movimentare i capelli anche i compagni di viaggio di vaiana ce n'è una che ha i capelli corti tutti ricci c'è lui con i capelli lunghi no io veramente lo trovo bello bello anche perché secondo me ci fa scoprire ci ci mostra un mondo che tra l'altro se noi ci pensiamo io ci ho pensato molto mentre guardavo il film quelle parti del mondo sono a rischio scomparsa quella è roba che potrebbe non esistere più si diventa una roba da national geografico ecco e quindi questa è una cosa che ancora di più mi smuove perché loro non affrontano questo tema cioè non è una roba a tema ambientale non sulla salvaguardia del pianeta è un qualcosa invece più sull'unione dei popoli cioè sul fatto di che senza per quanto si è fiorenti come società perché loro comunque hanno raggiunto un buon livello si auto sostengono in maniera funzionale però non basta non puoi stare per tutta la vita solo sulla tua isola e questo mi sembra anche un buon insegnamento per il mondo di adesso cioè non si può non si può pensare di sopravvivere stando sempre soli sulla propria isola anche se la propria isola funziona un po perché potrebbe essere sepolta dall'acqua a breve potrebbe inabbissarsi e un po perché comunque il confronto con le la diversità anche degli altri popoli è fondamentale questo è un po il senso della storia e poi va beh c'è il legame familiare c'è il fatto di allontanarsi dalle radici per trovare se stessi che è un po il punto principale del percorso di vaiano cioè vaiano cerca sempre di scoprire qual è il suo la sua direzione anche nel primo era così ma adesso ancora di più perché è una sfida più grande perché lei deve un po abbandonare anche le competenze che è riuscita a prendere in questi anni a farsi negli anni è diventata una brava navigatrice ma a un certo punto dovrà capire che non basta essere bravi dal punto di vista tecnico e aver capito il meccanismo perché c'è una componente di razionale di perdersi come lo chiamano nel nel film che è un qualcosa che tu non puoi controllare devi solo imparare a diciamo seguire un po questa corrente e trovare la tua strada tu hai visto la versione doppiata sì anche perché poi nella conferenza stampa c'erano le voci italiane c'erano doppiatrici e il doppiatore la doppiatrice di vaiana e la doppiatrice cantata del cantato di vaiana e l'altra che però non mi ricordo citiamo la manuela ionica ecco lei fa la voce diciamo parlata e poi invece vidale fa maui sia nel cantato che nel parlato giorgia era assente ha mandato un sì perché c'è un personaggio che realtà si è abbastanza importante perché fa una cosa importante nella storia ma non è non ha grandissimo spazio a livello di tempo che è una semidea che è il personaggio interpretato da giorgia che dal punto di vista del doppiaggio ti voglio bene giorgia ma non è un mestiere tuo ma dal punto di vista il cantato ti voglio bene giorgia quello è il mestiere tuo decisamente sì al 351 5241 101 fabrizio scrive sì natura meravigliosa ma troppo mare preparati perché il prossimo la prossima intervista c'è un personaggio incredibile in questo in questo oceania 2 che è un vecchietto una persona anziana che poi fa parte anche dell'equipaggio che proprio all'inizio nelle prime nella prima canzone che è sempre un po quella allegra prima che succedano le cose difficili e tutto il villaggio canta e lui è scocciatissimo perché è uno che fondamentalmente è preso male dal dal mondo ma è preso male proprio dal fatto che questi cantino in continuazione a un certo punto dice basta ma non potete stare zitti un attimo e quello secondo me è proprio il classico uno di classico esatto spettatore di cartoni disney che una certa dice io non ce la posso più fare a sentire voi che cantate c'è anche la ci sarà c'è c'è stata e ci sarà probabilmente perché forse si farà anche un terzo capitolo non è stato neanche paventato il regista ci ha fatto capire che se questo va bene forse gli danno la possibilità di fare l'altro e poi se era pensato se era stato pensato tutto come serie serie televisiva sicuramente la storia c'è il finale aperto ve lo dico nel senso che c'è margine di continuazione della storia bisogna solo capire in che forma quindi a questo punto se la il film vi piace se la serie vi piace se la storia vi piace a questo punto dovete abbiamo anche noi possibilità di fare passaparola e portare il cinema come se fosse io credo che sia una delle delle cose più belle fatte dalla disney recentemente quindi se non avete neanche visto il primo recuperatelo perché è proprio proprio bello e poi appunto visivamente parlando ho in mente faster quando parlo di queste cose che si stupisce mai visto che colori mai visto come si muovono sì ecco è un po questo diciamo esatto esatto questo mi sa che è un nuovo è un nuovo titolo da andare a vedere ovviamente in procinto del in preparazione del natale sarà una un'area piuttosto complicato per disney perché tra poco esce il re leone hanno fatto pure hanno fatto tutto e mezzo hanno messo cioè wicked e il gradatore sono usciti settimana scorsa scusate è fra mufasa e oceania 2 ma oceania 2 tutta la vita a scatola chiusa lo dico è proprio non neanche visto non lo so però sono abbastanza convinta però sono tutti prequel o sequel sì ma uno è live action e una non lo so ho dei dubbi parlare di live action su re leone vabbè live action nel senso coi pupazzetti pelosi ecco o prince faster qui davanti praticamente a questo punto parlando di anche collegamenti culturali la corona sonora ma anche come detto sempre dal regista in conferenza stampa anche i tatuaggi hanno una coerenza culturale lui ha chiamato cultural trust ovviamente un consulente sì esatto un consulente della cultura samoana anche se lui stesso ha dei retaggi samoani diceva il regista però comunque c'era qualcuno che si occupava proprio della parte visiva quindi dalla dalla piccola pietruzza fino al tatuaggio a tutti i tatuaggi del del popolo e dei protagonisti ma anche per esempio delle leggende che non sono esattamente magari uguali però prendono spunto dalle leggende tradizionali del samoane anche a proposito e poi adesso ci sono un milione di video di the rock che sta lì alle samoa con la madre a fare i balletti anche quelli per i consigli ma no perché stanno facendo il live action pure di quello sì lo so però comunque lui ha doppiato ovviamente come nella prima parte maui e sicuramente c'è ci sono delle degli extra da andare a recuperare sono veramente molto contento di vedere tutta questa attività al 351 52 41 101 a parte fabrizio che odia l'acqua e che vuole candidare il vecchietto al premio oscar ma c'è grande 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 entusiasmo allora cantano tanto e preparatevi spiritualmente quindi se se proprio non ce la potete fare però vi dico è talmente bello che forse un'ora e mezza potete anche resistere dai tra l'altro noi stiamo preparando come se fosse una un minestrone di quelli ricchi preziosi un'intervista probabilmente la avremo anche qui a chi fa cantare in italiano questi film così la buttiamo là però è un mestiere molto complicato molto tra l'altro bisogna far cantare anche persone che non sempre sono giorgia certo certo però in questo caso sono state fortunate perché comunque chiara crispo ha una bellissima voce e anche vi dare se la cava diciamo nel suo c'è anche mi pare un'altra un'altra cantare ma adesso poi ve la dovrei recuperare che fa una delle compagne di viaggio dei compagni di viaggio di di vaiana che è anche molto brava vedo tra le doppiatrici della versione originale nicole schvanzai schvanzai schvanzinger quella delle pussicacchione lei esatto può essere non lo so che cosa fa forse sina non è la principessa guerriera perché una s è una i vabbè adesso mi è mi è sfuggita un attimo però provato di retaggio culturale dentro oceania 2 che poi fa ridere che noi abbiamo dovuto modificare la il titolo perché si chiama moana in inglese però va bene lo sappiamo per la mamma di vaiana scusate sina è la mamma di vaiana ecco perché e quindi sinea simea simea non credo che c'è niente non c'è un patronimico un matronimico appunto dicevo dobbiamo avere il nostro cultural cultural anche noi samuano ci spiega poi andiamo a fare lo scambio culturale molto volentieri ma questo è un brano di natura samuana direttamente dalla cultura tutti quelli ritmati con le percussioni secondo me sono pazzeschi bellissimi chissà magari stiamo facendo sentire come di cultura samuana il pari della no beh credo che sia pensato non penso che sia come il tatuaggio con l'ideogramma cinese che vuol dire in voltino primavera non esageriamo pensavo più alla carbonara fatta con la panna credo che loro siano abbastanza precisi su queste cose speriamo via